All'inizio mia moglie non aveva capito che aveva questa malattia, anche lei lo sapevamo. È iniziata un po' come una depressione, almeno. Io ho portato mia moglie da uno psicologo e mi ha detto che era un po' di depressione. Questa è la più bella di tutti. Che bionda. La mamma si è ammalata nel 2000, più o meno. E nel 2002 le hanno diagnosticato la malattia. La cora di Antitone è una malattia devastante. È una malattia che ti debilita completamente. Ho cominciato i movimenti, i movimenti involuntari nel corpo. Mia moglie diceva che gli si muovevano le mani e i piedi da soli. È una malattia che ti spegne piano piano. La mia mamma era solare. Lei ha sempre cercato di combattere. E poi era una che non mollava, non voleva farsi fare cose dagli altri.